Benvenuto a bordo della nave dei corsari del web avventuriero Io sono il Coissaro, capitano di questa ciurma E immagino che tu voglia sapere cosa si combina a queste parti Beh, invece di spiegartelo, te lo mostrerò Guardi su, hai visto che bello che sono? Ah 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 Ma vado più male a me che è più bello Non c'entriamoci Oh mio dio Leee Porca miseria Non voglio saperlo Che dolore Dai La nostra missione è quella di esplorare il mare videoludico che ci circonda Per ottenere come ricompensa meravigliose esperienze E se questo non ti bastasse Abbiamo un sacco di altri domini sul web dove possiamo interagire al di fuori di Twitch Detto ciò, ci vediamo in diretta